La continuità territoriale aerea che sarà in vigore dal 2017 al 2021 conserverà la tariffa unica. Le novità sono state illustrate dall'assessore regionale di trasporti Massimo Dejana ad associazioni di categoria, società di gestione degli aeroporti, camere di commercio e associazioni dei consumatori. Gli aspetti principali della prossima continuità aerea in vigore dal 2017, oltre alla tariffa unica, riguarda anche i posti a disposizione nei collegamenti tra i tre scali sardi e quelli di Roma e Milano, con un numero variabile a seconda del giorno della settimana, di più nel weekend e meno nelle date centrali come il mercoledì. Cade invece la differenziazione per fascia oraria. Un progetto da quasi 67 milioni di euro, dei quali 30 stanziati dal Governo nazionale. Un passaggio ordinario con i portatori di interesse per le ipotesi di intervento riguardanti le linee guida approvate a fine giugno, ha spiegato Dejana. Il nuovo sistema, che agirà sempre in regime di esclusiva per singola tratta, prevede rispetto all'attuale un incremento del numero di posti del 79,8% al 103% nel quarto anno, passando da 4,4 milioni a 5 milioni nel 2021, rispetto ai 3,5 milioni di posti offerti quest'anno. Se attualmente si paga per i nove mesi di tariffa unica, 37 euro su Roma e 46 su Milano, nei tre mesi estivi il costo del biglietto può salire anche del doppio. Dalla stagione invernale 2017, gli adeguamenti per i mesi estivi di punta, se ci sarà una differenziazione, potrebbero non essere superiori ai 10 euro per tratta. E quanto è emerso dall'incontro con l'assessore? Una volta terminata la fase di audizioni con i sindacati, entro dicembre il nuovo schema arriverà in giunta per l'approvazione definitiva. Poi il passaggio in consiglio e quindi, con la conferenza dei servizi, si aprirà il percorso del decreto ministeriale.